La birra di oggi è una brown ale del birrificio bergamasco Rotorcraft. Ok, come anticipato, birrificio bergamasco Rotorcraft, siamo appunto a Sovere, provincia di Bergamo, il nome di questa birra è Cardiff Bay, lo stile è una British Brown Ale, ma mettiamo un piccolo asterisco, poi vediamo perché, grado alcolico 5,5 gradi, formato 33 centility, prezzo, non conosco il prezzo di questa birra, bicchiere suggerito è una pinta e sì, si tratta di un primo assaggio. Prima di vedere il piccolo asterisco che ho messo nella scheda, due parole sul birrificio, il birrificio appunto Rotorcraft è un birrificio abbastanza recente, è nato nel 2018, fine 2018. Hanno ancora il sito in costruzione e questa cosa mi ha un po' colpito perché insomma in questi due anni non è ancora stato realizzato il sito, anche se dal mio punto di vista immagino che il sito debba essere realizzato prima di iniziare con la commercializzazione dei prodotti, ma vabbè, ci sarà una strategia differente. Non ci sono informazioni particolari, è stato riportato su qualche altro sito che si occupa di birra, ma più che altro vengono riportati i nomi delle birre in produzione, non c'è storia del birrificio, non ci sono informazioni particolari, gli account social non sono aggiornati da diversi mesi. Questa cosa mi dispiace sempre un pochino perché sono sempre molto curioso di scoprire le informazioni sul birrificio, di vedere la faccia di chi ci sta dietro o comunque leggere la storia di come quando è nato il birrificio, ma non sempre siamo fortunati, anzi molto spesso c'è questo problemino di comunicazione secondo me, che poi è uno dei tanti problemi nel panorama della comunicazione della birra artigianale in Italia. Comunque tornando sulla birra, ho messo un piccolo asterisco perché lo stile indicato è una British Brown Ale, ma leggevo il grado alcolico 5,5 gradi. Sono andato a curiosare sul BJCP quant'è il grado alcolico indicato per le British Brown Ale e infatti il limite massimo è 5,4, ma tendenzialmente sono tutte intorno ai 4 gradi. Non che quello 0,1 possa cambiare completamente lo stile, ci mancherebbe, anzi anche a livello legale è permessa una certa tolleranza nel calcolo del grado alcolico, però mi è venuto questo dubbio perché sfogliando il BJCP effettivamente ho letto che esistono anche le American Brown Ale e di cui mi è capitato di bere qualcosa anche recentemente e quindi ho pensato qual è la differenza tra le British e le Brown? Sono andato a leggermi un po' di informazioni e non avendo nulla da dire sul birra edificio riempiremo questo spazio con un piccolo quiz British o American Brown Ale. Quali sono le differenze? Innanzitutto, come tutte le birre che hanno American nel nome, viene prevista un'abbondante lupolatura o comunque una lupolatura maggiore rispetto alle sorelle britanniche e con lupoli guarda caso americani. Innanzitutto vediamo le caratteristiche principali delle Brown. Derivano le Brown Ale o comunque sono imparentate molto strette con le mild. A tal proposito vi rimando al video, un po' lunghino lo so, sulle differenze tra Porter e Stout. Prima di vedere le differenze nel video faccio un pochino una piccola storia andando a prendere fonti principalmente da storici britannici e da una rivista italiana Fermento Birra Magazine e ho provato appunto a raccontare un po' la storia delle birre inglesi, diciamo dal 1700 a oggi più o meno. E se ricordate in quel video appunto si parla delle mild come uno stile praticamente nato dal numero di lavaggi che venivano fatti durante la produzione della birra, quindi delle filtrazioni del mosto. In ogni caso Brown e Mild sono appunto parenti strette. Le Brown infatti derivano, comunque sono parenti delle Mild, hanno Malti Pale principalmente e una piccola quantità di Malti scuri. Tipicamente essi usano per le Brown i Malti Chocolate o i Malti Care, Malti col caramello. Sono però diciamo vietati tra virgolette tutti i Malti, i Roasted, i Porter, i Black Roasted e così via. Lupoli utilizzati nelle Brown, ovviamente lupoli inglesi da amaro. Possono essere opzionali anche l'utilizzo di lupoli da aroma, ma principalmente lupolo viene utilizzato solo in amaro appunto per bilanciare la dolcezza del malto. Il corpo è sempre leggero. Nelle American il corpo può essere già un po' più corposi appunto, può essere già un corpo medio. C'è una nota molto interessante a livello storico nel BJCP perché viene precisato che le Brown e le British Brown e le indicate oggi nel BJCP sono versioni moderne e più forti delle storiche Brown e le inglesi, di cui però esiste a fondo, cioè a fine di tutte le categorie tra virgolette moderne, esiste una categoria, la 27, che è le historical beer. Sono stili praticamente storici e in questo caso la 27C, se non ricordo male, sono le London Brown Ale, che sono quello che più o meno dovrebbero essere storicamente appunto le birre inglesi, diciamo non quelle moderne, non quelle dell'ultimo mezzo secolo, ma di un secolo fa o più, che dovevano essere più leggere sia come l'alcolico sia come corpo e più dolci. Immaginiamo anche tendenzialmente potessero essere un pochino più acide. Quindi differenze con le British che abbiamo discusso adesso e le American Brown Ale, le americane hanno ok lupoli americani, più alcoli, infatti come dicevo prima mi è venuto più perché a 5,5 sono andato a vedere e le americane arrivano fino a 6,5 gradi se non ricordo male. Possono avere anche più corpo, quindi un corpo medio o medio pieno. Gli aromi sono simili anche se nelle americane è più facile trovare il lupolo anche nel naso, ma comunque deve essere solitamente secondario, comunque in equilibrio ai toni dati dal malto. Ok, prima di passare all'apertura della birra, alla degustazione, a vedere se è appunto una Brown Ale britannica o americana, due parole come al solito sull'estetica della bottiglia. Il tappo è di colore nero, senza alcun logo, c'è una unica etichetta, con una grossa immagine centrale e due colonnine sui lati con le caratteristiche. Uno di questi due è questa piccola infografica con gradi plato e ABV, quindi volume alcolico, 12,5 gradi plato. Ricordiamo che il plato è un modo per misurare praticamente la densità e alla densità corrisponde la quantità di carboidrati all'interno della birra. Viene suggerito anche l'utilizzo di un bicchiere aperto, quindi una pinta, tipicamente inglese. Qui ho una pinta brandizzata con la birra degli Aeromade, perché in casa è capiente, adesso ho solo questo bicchiere, data da discadenza, un po' di informazioni come al solito. E sempre sull'altro lato c'è un'altra infografica interessante con volume della bottiglia, temperatura di servizio, 8-10 gradi, infatti lo tirata fuori dal frigorifero 6 gradi ormai quasi 15 minuti fa per farla salire un po' di temperatura, e vengono riportati anche gli ibu, 26 ibu. È molto distante la grafica che indica gli ibu da quella che indica il plato, e la cosa non ne capisco molto il senso perché è utile per farsi un'idea della birra avere in un solo colpo d'occhio plato e ibu, e già ci immaginiamo, se siamo abituati a leggere questi termini, che tipo di birra sarà. L'ideale, se vogliamo fare delle grafiche secondo me efficaci, è avere in un'unica occhiata ibu, plato e magari colore, e avere la scala ecb può essere utile. In questo caso bisogna girare la bottiglia per andare a cercare gli ibu o il plato, se si sta leggendo uno o l'altro, appunto. C'è una piccola descrizione della birra, una degustazione, diciamo, a livello testuale, e una cosa che mi piace tantissimo perché c'è un logo con un monte, è scritto Acqua delle valli bergamasche. Essendo molto legato a quella zona mi fa piacere leggere che ci sia l'acqua, appunto, di quelle zone. Direi che possiamo aprire la birra. Mi fermo giusto in tempo perché iniziava a sollevarsi un po' di fondo. Allora, partiamo, come al solito, dall'analisi visiva di questa birra. Colore della schiuma. La schiuma è un color direi panna, abbastanza chiaro, non è propriamente nocciola, però non è un bianco molto, non è un bianco pulito, quindi tende un po' in quella direzione, con una grana abbastanza fina, medie o medio fine, direi così. E il colore della birra è un bellissimo effettivamente color bruno, con dei riflessi rossi molto accesi. La birra è piuttosto limpida, devo dire. Passiamo al naso. Allora, sto facendo un test cercando di annusare un pochino anche i lieviti. Si sente in effetti un leggermente più accentuato nei lieviti, ma si sente benissimo anche qui e alla prima annusata qualsiasi dubbio è fugato. Siamo perfettamente british. Qua non c'è nulla di americano. Il dubbio che mi era venuto, vabbè, per un 0-1 di grado alcolico non è importante, ma siamo sicuramente all'interno della categoria delle british brown ale. Allora, al naso emergono chiaramente due cose importantissime. La prima, che subito mi ha fatto pensare alla nocciola e al mondo, diciamo, del tostato. Tostato e nocciola sono le cose che arrivano subito al naso. C'è anche un qualcosa di dolce che mi può ricordare qualche dolce, qualche torta, appunto. Come al solito non sentiamo il dolce con il naso, lo diciamo sempre, ma qualcosa che mi fa pensare a un dolce come potrebbe essere una torta o qualcosa appunto con della frutta secca, ma anche mi fa pensare, per esempio, a un cappuccino o a un mocaccino, comunque a quell'aspetto. Non c'è caffè, non c'è caffè sicuramente, ma c'è qualcosa di tostato. Potrebbe essere, ecco, anche dell'orso tostato. Ok, molto delicato dal naso, ma interessante e molto molto british sicuramente. Passiamo quindi alla bocca. Ok, la prima cosa, sicuramente, il gusto che emerge subito è il dolce. Dolce, cioè, del po' di caramello, c'è sicuramente tanto miele e torna ancora un pochino quel fruttato di nocciola. Sicuramente le cose che emergono sono queste. Il corpo, devo dire, per essere british tipicamente ci aspettiamo le corpi più leggeri. Ora stavo pensando alle brown nail di Rogue che ho assaggiato e che appunto sono delle American brown nail e sono belle corpose rispetto ad altre brown italiane. Questa è un po' sposata, in effetti, come corpo, ma non è eccessivamente corposa, anzi è un buon equilibrio, forse non è basso, direi un corpo medio, che comunque è perfettamente consentito dallo stile contemplato, dallo stile delle British brown nail. È possibile avere anche brown con corpi più leggeri, ma comunque non siamo nelle birre con un corpo importante o masticabili, per così dire. No, assolutamente no. È perfettamente azzeccato, secondo me, questo corpo. Non troppo leggera, ma perfetto per lo stile. I luppoli sono quasi assenti, nel senso che manca un finale amaro. C'è questo dolce in bocca che a un certo punto si interrompe e quindi per forza si interrompe perché arriva un qualcosa di amaricante, che sono sicuramente i luppoli, ma non persiste dell'amaro in bocca e persiste un leggero, leggero ancora dolce e fruttato in bocca. Alcol ovviamente non si sente, sono pochi i gradi, ma comunque non sono evidenti e, che dire, eccezionalmente beverina questa birra. Mi sta sorprendendo in maniera super, super positiva. Che dire, molto buona questa Cardiff Bay di Rotorcraft. Impressione sicuramente super positiva, molto beverina. Mi spiace che appunto non ci fossero informazioni sul sito. Ammetto che forse mi ero fatto qualche pregiudizio io, non vedendo appunto attenzione su quell'aspetto, ma per quanto riguarda le birre, le mie impressioni su questo birrificio che non conoscevo sono assolutamente super positive. Una perfetta British Brown Ale. Skoll! Grazie a tutti! Grazie a tutti!